Si chiama Chris Hull Kieser, vive nel Wisconsin in Inghilterra e pensate che rischierebbe una condanna all'ergastolo. Perché? Perché la ragazza che all'epoca dei fatti aveva 17 anni di età avrebbe fatto fuori l'uomo che secondo il suo stesso racconto l'avrebbe violentata e lo avrebbe fatto sparandogli alla testa per difendersi dall'ennesimo abuso che voleva l'uomo compiere i suoi guardi. Questa ragazza è la protagonista, l'uomo si chiamava Randy Volar, fu fatto fuori nella casa di Kenosha. Nel giugno del 2018 il corpo è bruciato, ha risparmiato un arresto pochi mesi prima per crimini sessuali sui minoregni, rimesso in piena libertà. I due nel 2016 erano conosciuti e ecco che poi, diciamo così, ci sarebbero stati in diversi casi come episodi di abuso sessuale. La ragazza avrebbe detto, mia drogata voleva stupedarmi. La ragazza però adesso riscala il gas, il carcere a vita. Un saluto caro da una radio e a un prossimo video.